ciao e benvenuti un nuovo video allora oggi apriamo la my beauty box di giugno 2024 ma prima di procedere a questo vi anticipo subito che siamo nel periodo estivo e quindi ci prendiamo una pausa un rallentamento perché anche le aziende cosmetiche stanno rallentando perché per le uscite di settembre e che cosa esce a settembre i calendari dell'avvento quindi inizieranno la pausa anche loro e ce la prendiamo anche noi ma non vi lascio senza video inizierò a creare contenuti per quest'autunno anche perché mi sto leggermente sciogliendo quindi i video per l'estate allora torniamo con questa my beauty box che vi ricordo sempre 15 euro l'abbonamento più vantaggioso e c'è lo sconto del 10 per cento con il mio codice noi andiamo ad aprirla immagino sia quella dedicata eccola qui summer proof allora ormai sono esperta quindi codice qr già scansonato andiamo a vederla un po miserotta di contenuto ma magari sono stati interessanti allora andiamo a vedere subito con il qur senza però guardare di spoiler e partiamo con questo cosa abbiamo qui c'è da pille è un set di traversalse ad esempio da portare in valigia abbiamo e andiamo a guardarlo subito anche bellino il fatto che abbia comunque la bustina trasparente abbiamo fluido idratante per pelle normale secca sensibile da 29 ml emulsione detergente per pelle normale secca sensibile da 29 ml quindi ok e poi questo che la crema idratante per pelle secca e molto secca da 14 grammi quindi tutto un travel dedicato alla pelle secca e sensibile ed è con una bustina tutto formato formato viaggio con un formato che oltretutto può andare anche in aereo quindi lo trovo comodo va bene per un weekend e tre giorni non per una settimana ovviamente però interessante allora questo set tutto quanto ha un valore di 5 euro andiamo avanti guardiamo questo grande ok caro vitte programma solare spf 30 uvia e uvb fase 2 proteggere latte spray corpo dermo protettivo protezione alta 30 ml non è una protezione alta per pelle sensibile resistente all'acqua e al sudore è un full size da 200 ml eccolo qui e questo qui ha un valore di 16 euro ok si ci sta in effettivamente in estate ci sta andiamo avanti perché non so se è un caso ma ho visto che dello stesso marchio caro vitte eccola qua c'è anche la fase 3 idratare crema fluida e idratazione e sollievo con burro di carete e complesso multivitaminico per viso e corpo texture leggera e rinfrescante 8 ore di idratazione ok questo è un travel sites da 30 ml eccolo qui ed abbiamo un 4 euro ok c'è abbastanza interessante come poi andiamo avanti ok ok questo è uno shampoo shampoo della alterna che un marchio che sta uscendo ultimamente che oltretutto dicono essere molto valido non ho mai provato niente e c'è questo maier my canvas me time every dish shampoo con caviale botanico ok il profumo classico da detergente la confezione a 40 ml ed ha un valore di 10 euro quindi urcala come valore ci sta lo proviamo perché marchio che stanno parlando molto ed e vediamo ultimo prodotto è questo di fisica formula batter glo contour wand colore medio ok ok ho capito è un contour in crema ma adesso lo proviamo full size immagino che sia di quelli esatto a spugnetta dovrebbe essere un bronzer illuminante le spugnette di questi si fanno così e poi qui esce il colore esce il colore esce il colore come stavamo dicendo mamma mia è scurissimo è scurissimo ma perché carino ma è scurissimo troppo scuro per me assolutamente troppo scuro effettivamente dice medio scuro 12 ml un full size ed il valore è di 12 euro bello si stende bene sembra che asciuga anche velocemente ma il fatto è che troppo troppo scuro no no assolutamente allora recap di questa box diamo valore di 15 la box da 15 euro abbiamo il glo che però glu non è perché si sta asciugando e tutto è tranne che illuminante ed è di fisica formula il bronzer poi abbiamo lo shampoo di alterna solare full size di carovit protezione 30 crema fluida datazione sollievo sempre di carovit questo è un travel size e per finire questo formato da viaggio di setapille ok a conti fatti più o meno il valore di tutti i prodotti e di 47 euro quindi ci sta come prezzo rispetto ai 15 piccato solo per questo ma comunque magari come è ombretto diciamo che asciuga molto velocemente è bello perché asciuga e forse non è così bello perché non si va neanche a sfumare ok fatemi sapere voi che cosa ne pensate quale prodotto vi incuriosisce quale ed è avete provato se ne avete provati e come siete trovate io vi do appuntamento al prossimo video che non so quando sarà ma ci sarà sicuramente con qualcosa dell'estate ci riaggiornaremo e niente qui d'appuntamento al prossimo video ciao